Ciao ragazzi! Siete pronti per una nuova body challenge? Oggi ci dedichiamo ad un Rocky Workout. Ho deciso di chiamarlo così perché per alcuni esercizi mi sono ispirata all'allenamento della box. Per questo allenamento utilizzeremo anche una fune e dei pesetti, ma non preoccupatevi, se non avete questi attrezzi potete correre sul posto o con le ginocchia alte al posto della fune oppure utilizzare due bottiglie d'acqua o due bottigliette d'acqua al posto dei pesetti. Siete pronti per questa sfida? Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al mio canale, seguitemi a allenamenti e ci divertiremo insieme. Andiamo! 5, 4, 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 6, 7, 8, 9, 10 6, 8, 9, 10 6, 8, 10 6, 8, 10 6, 8, 10 6, 8, 10